Prova scritta, esame, licenza di condotta. Il candidato descriva sinteticamente le caratteristiche del freno ferroviario. Ti ho sbloccato un ricordo? O ti ho predetto il futuro? Oh, nessuna delle due, ma vuoi saperne di più? Oggi farò una vera e propria lezione base sul freno. Quindi stavolta pochi tagli, poche interruzioni, pochi video emozionali, solo tanta e vera tecnica. Per tua comodità ho messo in descrizione i capitoli, così, se vorrai saltare al capitolo successivo, o se hai capito di non aver capito, potrai tornare al precedente. Sarà una lezione volta ad un'introduzione sul freno, ma utile a tutti, appassionati studenti ed anche ferrovieri, per ripassare nozioni importantissime su uno degli apparati più fondamentali, se non il più fondamentale, di tutta la tecnica ferroviaria. Se sei uno studente, ti prometto che alla fine del video la smetterai di ripetere in classe la frase... Professor, non ci ho proprio capito un cazzo. Professor, non mi piace che mi chiami professor. Io sono Jacopo Ferraccioli e sono un istruttore ferroviario che si sente un adolescente intrappolato in un corpo di un oltra trentenne. Già. Su questo canale parliamo di tecnica e di cultura ferroviaria, andando sempre alla ricerca dei perché. Ma analizziamo la ferrovia anche e soprattutto dal punto di vista dell'uomo, toccando argomenti come l'insegnamento, il metodo di studio, la motivazione e la crescita personale. perché non dobbiamo dimenticarci che dietro a tutta questa tecnica e tecnologia ci sono delle persone come noi. E, prima di tutto, ancora prima di pensare alla materia, dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Momento zen terminato, perché oggi è una di quelle giornate in cui parliamo di tecnica e nel dettaglio del sistema frenante. Premessa. Il sistema frenante di un convoglio è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di... frenare. O, detto in modo più tecnico, di trasformare l'energia cinetica posseduta dal treno in movimento in energia termica. Via! Iniziamo con un po' di sana fisica. Un treno che viaggia ad una determinata velocità V possiede un'energia cinetica EC che risulta essere direttamente proporzionale alla metà della sua massa e dal quadrato della velocità che possiede. Spaventato? Confuso? Tranquillo. Scendiamo più a fondo. Per il principio di conservazione dell'energia, la somma delle energie possedute da un corpo deve rimanere costante. L'energia, quindi, non può essere creata né distrutta. Può essere solo trasformata da una forma ad un'altra. Se io, quindi, voglio fermare un treno che possiede energia cinetica, dovrò trasformare questa energia cinetica in un'altra energia, in energia termica, e dissiparla così nell'ambiente circostante. E come? Attraverso l'attrito che si genera tra la suola e il piano di rotolamento della ruota. O tra guarnizioni di attrito e disco dissipatore, ogni volta si eserciti un'opportuna pressione. Per i dettagli, leggi la descrizione del video. Questa forza frenante può ottenersi in modo meccanico, tramite un freno a mano su ogni singolo veicolo. Freno a mano o freno di stazionamento o freno a molla sulle locomotive. In modo pneumatico, tramite freno diretto o moderabile, che agisce solo sulle locomotive, azionato dal macchinista tramite un rubinetto specifico. Ed in modo pneumatico, tramite freno continuo, anch'esso azionato dal macchinista, tramite il rubinetto di comando del freno, che consente una frenatura graduale di tutti i veicoli componenti il convoglio, che è l'argomento di oggi. Ciò è possibile grazie ad un organo, chiamato condotta generale, che consente il passaggio dell'aria compressa lungo tutto il treno. Sì, perché, per chi non lo sapesse, il treno frena con l'aria. Ma l'aria non va a spingere i ceppi alle ruote o le pasticche sui dischi, no. Per frenare, io l'aria la devo togliere. Effettuando una depressione in condotta generale, il convoglio frena. Questo perché un sistema articolato di apparati e leveraggi fa sì che, quando tutte le capacità del freno di un veicolo siano a regime ed in equilibrio, cariche quindi ad una pressione predeterminata 5 barra, il veicolo risulti sfrenato. Andando a variare questo equilibrio, nel dettaglio agendo sul rubinetto di comando posto sulla locomotiva, diminuisco la pressione all'interno di questo tubo, che scorre lungo tutto il treno, e quindi si creerà un disequilibrio di pressione tra la condotta generale, il tubo, e gli altri apparati che erano stati precedentemente caricati alla stessa pressione. Questo disequilibrio fa sì che il treno freni. Ingegnoso, complesso, lo spiegheremo, ma anche molto efficace e sicuro. Ma perché l'hanno fatto così complicato? Non bastava magari spingere aria sui ceppi e farlo frenare? Sì, bastava. E dall'inizio era così. I primi carri, come le prime carrozze, non avevano freno. Non è questa la sede per fare una lezione sulla storia del freno, e se vorrete ci sarà modo per approfondire, ma quando gli ingegneri dell'epoca si resero conto che fermare un treno senza freni era una c*****a, applicarono il freno a mano, che veniva azionato da un frenatore che si trovava in un'apposita garritta su uno dei veicoli e dal fischio del macchinista saltava fuori e cominciava a frenare veicolo per veicolo. Ogni tanto partiva qualche braccio o qualche gamba, nella migliore delle ipotesi questo, insomma, non è che fosse proprio il massimo. Passando dai freni a mano ai freni a vapore, che approfondiremo nel videocorso dedicato al freno, se vorrete, si è arrivati al primo vero freno ad aria compressa. Come funzionava? L'aria compressa prodotta sulla locomotiva veniva inviata all'interno della condotta generale, che, come abbiamo detto, si estende lungo tutto il treno, e da questa nei cilindri del freno. Gli organi attuatori della frenatura, che, tramite una timoneria, spingeva i ceppi del freno contro le ruote, che, tramite attrito, rallentavano la corsa fino a fermare il treno. Questa tipologia di freno, freno, era definita diretto, ma era tutto tranne che sicura. Vediamo perché. Primo, l'azione frenante era lenta, anzi lentissima, e poco efficace, perché l'aria, per arrivare in pressione in coda al treno, ci metteva molto, molto, molto tempo. Secondo, in caso di rottura della condotta, o di forte perdita, il treno non avrebbe frenato. Facciamo un esempio pratico. Ammettiamo che io stia viaggiando in linea a 100 km all'ora, e per un caso strano del destino, mi si rompe la condotta generale. Si spezza il tubo. Questo renderebbe di fatto impossibile la frenatura. Viene da sé che, se nel momento in cui io dovrò andare a frenare, l'aria che mi servirebbe, invece di andare ai ceppi, si disperderebbe nell'ambiente, nell'atmosfera, ed io frenerei col cato. Quindi, che cosa si sono inventati i nostri avi per eliminare questo disastroso difetto? Il signor George Westinghouse trovò la soluzione al quesito. Ideò una nuova tipologia di freno, definito continuo ed automatico, installando su ogni veicolo, precisamente tra la condotta generale ed il cilindro freno, un dispositivo chiamato valvola tripla, ed un serbatoio con una riserva d'aria, chiamato allora, e chiamato tutt'oggi, serbatoio ausiliario. Con questo sistema, a differenza di prima, la condotta generale è sempre carica di aria a pressione. Ma come funzionava? Per effettuare una frenatura, il macchinista effettuava, tramite un comando posto sul banco di guida, chiamato rubinetto del freno, una depressione in condotta generale. in pratica levava aria dal tubo. La valvola tripla intercette il passaggio dell'aria dalla condotta al serbatoio ausiliario, mettendo però in comunicazione il serbatoio ausiliario con il cilindro del freno. In pratica, levando aria in condotta, aprivo una comunicazione tra il serbatoio ausiliario e il cilindro del freno, che faceva muovere i leveraggi e quindi frenare. Geniale? Sì, ma aveva i suoi bei difetti anche questo. In seguito, e tuttora è così, Magic George integrò il suo freno con un'apparecchiatura chiamata distributore, che, oltre a distribuire l'aria nelle varie capacità del freno, confronta tre pressioni costantemente. Quella della condotta generale, quella del cilindro freno e quella di un altro serbatoio, piccolo piccolo, ma di estrema importanza, chiamato serbatoio di comando. Ci siamo? Bene. Scoprichiamo il vaso di Pandora e fiondiamoci dentro. Andiamo a scoprire questi requisiti. Requisiti caratteristiche del freno continuo. L'impianto frenante di un treno deve essere pneumatico. Il funzionamento è ad aria compressa, non i pneumatici come le gomme delle macchine. Continuo. Tramite un unico comando il funzionamento del freno avviene su tutti i veicoli che formano il convoglio. Automatico. Come abbiamo detto prima, in caso di spezzamento o forte perdita la frenatura avviene spontaneamente. Quindi viene comandata spontaneamente la frenatura. Inesauribile non deve perdere il potere frenante anche dopo diversi cicli di frenatura e sfrenatura. Cioè, non permette al veicolo di sfrenarsi fino a quando le capacità del freno non siano state ricaricate. 5 bar. E il sistema non sia quindi in grado di frenare di nuovo. moderabile o graduabile. L'azione del freno è graduabile in fase di frenatura ed in fase di sfrenatura. Ho frenato troppo? Sfreno un po'. Ho frenato troppo poco? Freno un po' di più. Claro fin qui? Très bien. Oggi poliglotta. Visti i requisiti, le caratteristiche, andiamo ora a vedere quali sono le principali parti che compongono il freno continuo, partendo dalle locomotive. Abbiamo detto che il freno funziona ad aria compressa, ma non abbiamo detto il perché. Perché usare l'aera compressa? Perché l'area è disponibile dappertutto, può essere trasportata in tubi e flessibili, immagazzinata all'interno dei serbatoi ed utilizzata quando vogliamo. Perché nel caso in cui un serbatoio si rompa, una condotta, un flessibile, la dispersione dell'area non provocherebbe incendi, esplosioni e sversamenti. Perché mantiene inalterata la sua affidabilità, anche se soggetta a variazioni di temperatura, perché l'area non inquina, perché è comprimibile e quindi possiamo utilizzarla come fonte di energia gratuita. o gratuita, non lo so come si dice bene. Ma quest'area, per poterla utilizzare, va compressa e per comprimere l'area di che cosa abbiamo bisogno? Esatto, di un compressore. E dove lo troviamo? Esatto due volte, sulla locomotiva. Le locomotive sono quindi dotate di un compressore per la produzione dell'area compressa. Come funziona? L'area viene prelevata dall'esterno da un compressore o più di uno a seconda delle esigenze. Viene fatta passare dal filtro di pescaggio che pulisce l'area dalle impurità, come foglie, zeppetti e mozziconi di sigarette. Viene quindi compressa, filtrata ed essiccata mediante essiccatori ad assorbimento ed immagazzinata nel serbatoio principale. Sulla locomotiva c'è anche un rubinetto di comando con il quale il macchinista comanda la frenatura o la sfrenatura. Ogni veicolo, locomotiva compresa, equipaggiato con un freno continuo è dotato di una condotta generale dell'area compressa che è definita anche elemento di comando e controllo e che alimenta d'aria le apparecchiature del freno. Normalmente abbiamo detto ma lo ripetiamo a 5 bar e con le sue variazioni di pressione comanda la frenatura e la sfrenatura. Un distributore l'elemento decisionale il distributore confronta la pressione della condotta generale con quella del serbatoio di comando decide quindi la frenatura o la sfrenatura. Serbatoio di comando piccolino è l'elemento di memorizzazione e confronto una camera praticamente a pressione costante. Il serbatoio di comando riempiendosi alla pressione raggiunta dalla condotta generale in fase di carica iniziale crea e mantiene un riferimento di pressione cioè se tu carichi a 5 bar anche quando togli area dalla condotta generale questo serbatoietto rimane a 5 bar a che serve è fondamentale per provocare la frenatura e la sfrenatura ma a breve ci torniamo. Serbatoio ausiliario definito anche elemento di accumulo è il luogo dove viene convogliata all'area compressa durante la fase di carica dell'impianto del freno una volta provocata la depressione in condotta generale è da qui che verrà presa all'area per essere mandata ai cilindri del freno per effettuare quindi la frenatura cilindro del freno è l'elemento di azionamento trasforma l'energia pneumatica dell'area compressa in energia meccanica necessaria a realizzare la frenatura del veicolo dopo la depressione l'area dal serbatoio ausiliario viene fatta passare all'interno di questo cilindro che è collegato ad un sistema di leve e tiranti un sistema di leve e tiranti chiamati leveraggio o timoneria del freno che vanno a far accostare le suole alle ruote o agiscono sulle pinze dei dischi pinze e dischi non è preciso però ecco abbiamo capito no? le locomotive e i veicoli viaggiatori hanno anche un'altra condotta chiamata condotta principale è una condotta pneumatica relativa ai servizi esempio l'impianto di chiusura delle porte o lo scarico del bagno ogni veicolo è dotato di tubi flessibili accoppiatori e rubinetti di testata che servono proprio ad unire pneumaticamente e i vari veicoli per consentire la continuità del freno e di un rubinetto di isolamento che serve per escludere dal funzionamento le apparecchiature frenanti di un veicolo in caso di guasto mantenendo però la continuità il veicolo non frena ma l'area passa uguale bene ora andiamo a vedere finalmente come funziona questo benedetto freno il funzionamento del freno è basato su un equilibrio di pressioni o meglio sull'equilibrio degli sforzi che agiscono sulle tre superfici dello stantuffo che si trova all'interno del distributore stesso sul quale agiscono appunto le pressioni della condotta generale del serbatoio di comando e del cilindro del freno in questo modo come vedremo tra poco il freno si dice inesauribile il cilindro del freno potrà svuotarsi e quindi avverrà la sfrenatura solo e soltanto se nella condotta generale e nel serbatoio asiliario si sarà ripristinata la pressione di regime pari a quella del serbatoio di comando che durante la frenatura mantiene costante la pressione al suo interno non variandola via iniziamo il macchinista tramite il rubinetto di comando del freno della locomotiva provvede innanzitutto a caricare le capacità del freno preleva aria dal serbatoio principale della locomotiva e la immette nella condotta generale del freno fino a che tutte le apparecchiature condotta generale serbatoio di comando serbatoio asiliario si sono caricate ad una pressione di 5 bar ma se l'area dal serbatoio sta a 8 9 10 bar come fa la condotta generale ad essere caricata a 5 bar dentro il rubinetto del freno c'è una valvola detta regolatrice di pressione che regola la pressione in uscita dal rubinetto in base alla posizione che il macchinista gli fa assumere se il rubinetto è posto in posizione di sfrenatura in posizione di marcia l'area esce dal rubinetto e quindi va in condotta generale a 5 bar ma se io muovo il rubinetto in posizione di frenatura la pressione diminuisce quando il macchinista carica le capacità all'area della condotta generale raggiunge il distributore il distributore smista l'area in arrivo dalla condotta generale e riempie il serbatoio di comando ed il serbatoio ausiliario fino a quando non raggiungono il valore di pressione della condotta generale che abbiamo detto 5 bar durante questa fase di carica il cilindro freno viene tenuto dal distributore in contatto con l'atmosfera e di conseguenza il veicolo risulta sfrenato nel momento in cui tutte le capacità del freno hanno raggiunto il valore di regime ripetiamolo 5 bar il distributore è pronto a compiere il suo lavoro cioè inizia a confrontare i valori di pressione del serbatoio di comando con quello della condotta generale quindi ipotizziamo che tutte le capacità siano vuote e si inizia ad alimentare la condotta generale attraverso il rubinetto di comando del freno fase di carica l'aria arriva dalla condotta generale ed inizia a riempire la camera A chiamiamola A del distributore la chiamiamo A perché tutti la chiamano A carica iniziale contemporaneamente attraverso le valvole unidirezionali definiamole X e Y unidirezionali significa che l'aria va da una parte ma non riesce più a uscire ok una volta che è entrata o meglio non riesce più a uscire da lì carica la camera B ed il serbatoio di comando ad essa collegata e carica anche la camera C ed il serbatoio ausiliario quando tutte queste capacità sono alla stessa pressione 5 bar quindi in equilibrio sullo stantuffo del motore le forze della pressione dell'aria agiscono tutte allo stesso modo quindi due forze uguali ed opposte generate dalla pressione dell'aria vanno ad agire sullo stantuffo lo stantuffo è tenuto poi in posizione grazie all'azione di una molla fase di frenatura la frenatura viene comandata dal macchinista effettuando una depressione nella condotta generale tramite il rubinetto del freno ricordate? ma analizziamo cosa avviene all'interno del distributore che è molto interessante la forza che agisce sullo stantuffo che prima abbiamo chiamato motore generata dalla pressione dell'aria della camera A diminuisce perché diminuisce il valore di pressione della condotta generale e la camera A è collegata direttamente alla condotta la forza quindi che agisce sullo stantuffo generata invece dalla pressione della camera B che è quella collegata al serbatoio di comando che fa vince la resistenza e quindi sposta verso l'alto lo stantuffo motore andando a chiudere la valvola V quindi la camera D ed il cilindro freno a cui è collegata non sono più in comunicazione con l'atmosfera si è chiuso il passaggio l'aria non esce più cominciate a capire vero? proseguendo la sua corsa verso l'alto lo stantuffo quindi la pressione della camera B lo stantuffo apre anche un'altra valvola chiamata valvola di immissione definiamola W questi nomi non li definisco io sono stati definiti così avviene così un passaggio dell'aria dalla camera C alla camera D e quindi al cilindro freno la camera C è collegata al serbatoio usiliario inizia la frenatura attenzione questo passaggio è molto delicato a questo punto l'aumento della pressione della camera D genera una forza una spinta sullo stantuffo motore che si somma alla pressione quindi alla forza generata dalla camera A quindi la pressione della camera D più la pressione della camera A quando la somma di queste due forze equivale a quella della camera B lo stantuffo motore ritorna in una posizione chiamata di equilibrio si interrompe in questo modo il flusso dell'aria dal serbatoio usiliare quindi camera C alla camera D e dal cilindro del freno altrimenti sarebbe perpetuo vogliamo frenare ancora che facciamo abbiamo detto che è graduabile il freno quindi io posso tranquillamente aumentare la frenatura aumentando la depressione quindi diminuendo ancora la pressione nella camera A la forza della camera B avrà ancora il sopravvento su tutte le altre e quindi che succede? lo stantuffo si sposterà di nuovo verso l'alto andrà a riaprire la valvola di immissione W e si avrà ancora un travaso d'aria dal serbatoio ausiliario alla camera D al cilindro freno quando di nuovo le forze che agiscono sullo stantuffo motore si equilibreranno di nuovo la valvola W si richiuderà e torneremo ancora ad una situazione di equilibrio ma con una differenza nel cilindro freno abbiamo una pressione maggiore gradoabilità signori ok abbiamo frenato abbiamo frenato poco abbiamo frenato di più adesso è ora di sfrenare come sfreniamo? la sfrenatura la comanda sempre il macchinista agendo sul rubinetto del freno ricaricando di fatto la condotta generale a 5 bar la pressione che agisce nella camera quindi aumenta e di conseguenza aumenta anche la forza che agisce su tutto lo stantuffo a questo punto lo stantuffo motore si abbasserà la valvola V o V si apre consentendo quindi il passaggio dell'aria della camera D e del cilindro freno verso l'atmosfera l'aria passerà attraverso questo foro di scarico ed inizia finalmente la sfrenatura quando tutta l'aria del cilindro freno e della camera D sarà fuoriuscita verso l'atmosfera torneremo in una situazione di equilibrio però stavolta è una situazione di equilibrio in sfrenatura perché saremo tornati nella fase iniziale dove il freno era in equilibrio e pronto a frenare ipotizziamo che io invece ho frenato troppo e quindi voglio sfrenare un po' quindi faccio una ricarica parziale della condotta generale aumenta la pressione della camera lo stantuffo abbasserà un pochettino e la fuoriuscita dell'aria dal cilindro freno cesserà quando quando si raggiungerà un equilibrio delle forze che agiscono sullo stantuffo sotto e sopra si otterrà così una si chiama sfrenatura parziale abbiamo visto il freno graduabile in frenatura questo è il freno graduabile in sfrenatura in realtà il distributore è molto ma molto ma molto più complesso di questo ma per avere un'idea generale del funzionamento questo va più che bene bene questa lezione base sul freno è finita seguiranno tanti tanti altri video sul freno fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti così possiamo migliorare la lezione magari ad andare a spiegare qualche cosa che non è stata recepita al cento per cento grazie ci vediamo alla prossima a spiegare la lezione